E attraverso il prendersi un caffè o il comprarsi un paio di jeans si contribuisce a rafforzare la legalità, come? Scegliendo il bar e il negozio di abbigliamento che non paghe il pizzo, con la novità che questi negozi per i giovani inferiori a 35 anni fanno delle offerte speciali. Promuovere e sensibilizzare al consumo critico le giovani generazioni. Da oggi è possibile attraverso la piattaforma della carta giovani della città di Napoli, sparagnam.it, grazie ad un protocollo d'intesa firmato in prefettura che vede i protagonisti l'assessorato ai giovani del comune di Napoli e la federazione antiracket italiana e che consente di individuare gli esercizi commerciali che si distinguono per non pagare il racket delle istruzioni, il tutto sintetizzato nella formula pago chi non paga. Se sei un ragazzo devi andare online utilizzando il tuo smartphone o il computer e devi scegliere l'offerta che il comune garantirà scontata del 20% di un servizio, di un consumo o la capacità e la voglia di andare a teatro. Se sei un imprenditore devi caricare la tua offerta. Grazie alla firma di questo protocollo il comune e la prefettura si mettono insieme legate dal ponte della FAE, la federazione antiracket italiana e avremo quindi un sigillo di garanzia. Il pago chi non paga, il consumo critico che andrà insieme all'oghetto di Sparagnammo che darà a tutti noi cittadini la sicurezza di andare a spendere i nostri soldi in delle realtà economiche sane. Sparagnammo.it serve a sapere cosa è importante nella crescita civile di una società e quindi l'anti-racket. C'è una manifestazione in questi giorni, il 6, 7 e l'8, c'è una fiera a piazza del plebiscito per sapere meglio. Sono mille circa ma sono sempre in aumento tutti i negozi che hanno diritto all'anti-racket. Quindi pago, no? Chi non paga il pizzo? Insomma, fatelo! Sparagnammo.it